Se consideriamo che i mercati sviluppati non registrano una correzione degna di questo nome dall'aprile del 2011, dal suo punto di vista, considerati i prezzi raggiunti dai listini, bisognerebbe organizzarsi per affrontarla? Io credo che una correzione sia assolutamente nel noveo delle possibilità, considerata che è dalla crisi dell'Euro che non si verifica una discesa degna di nota del mercato azionario. Questo mi sembra che sia legato soprattutto alla fibrillazione che in queste ultime settimane hanno avuto e poi anche in estate i mercati sulle notizie del tapering, quindi della possibilità da parte della Federal Reserve di ridurre il quantità di rising, gli acquisti dei titoli obbligazionari che sta portando avanti. Credo che questo sarà un tema che nel 2014 ci accompagnerà, quindi le notizie sul tapering avviene o non avviene quando avviene e da questo punto di vista una correzione potrebbe essere certamente negativa nel breve termine, ma se fosse il segnale che usciamo dalla fase di emergenza della politica monetaria potrebbe essere anche qualcosa nel lungo termine salutare per i mercati azionari. L'inflazione è vicina ai minimi storici negli Stati Uniti e altre economie sviluppate stanno affrontando la prospettiva di una forte deflazione. Come comportarsi in un simile contesto? È difficile da dire perché l'unico esempio di deflazione che abbiamo davanti a noi è quello molto fallimentare del Giappone, in cui un'economia che sembrava proiettata negli anni 90 a diventare la prima economia mondiale e in realtà è diventato il caso di scuole di come non si gestisce un sistema economico. In linea teorica dovrebbe essere uno scenario più favorevole alle obbligazioni, forse l'unico scenario quello di bassa inflazione abbastanza favorevole alle obbligazioni, tenuto conto che però contesti di bassa disinflazione non favoriscono il debitore e aumenta, se diminuisce il rischio tasso, aumenta invece il rischio di credito e il rischio di default, quindi un'attenzione particolare in questo contesto alla qualità del creditore. Detto questo, siccome gli Stati sovrani sono oggi i grandi debitori, secondo noi le banche centrali faranno di tutto per evitare uno scenario deflazionistico e quindi non lo vediamo come lo scenario più probabile a tendere. Dato che la Fed proseguirà una politica monetaria meno accomodante rispetto alla BCE, l'euro potrebbe indebolirsi. Lo scenario dell'esportazione dell'eurozona potrebbe quindi migliorare. Qual è il suo punto di vista sulla crescita 2014 del vecchio continente? Certamente le esportazioni potrebbero aiutare, è curioso che peraltro al momento il dollaro si stia comportando proprio nella maniera opposta rispetto a dove dovrebbe andare con le ipotesi di tapering e di rialzo dei tassi negli Stati Uniti. Certamente l'Europa non può cavarsela solo con le esportazioni, questo è valso un po' per la Germania negli ultimi anni, ma la Germania per raggiungere una crescita basata anche sulle esportazioni è dovuto diventare il primo esportatore mondiale, quindi l'intero eurozona non può fare quello che ha fatto la Germania negli ultimi anni. Quindi occorre un rilancio dei consumi interni, occorre un rilancio sul lungo termine degli investimenti e tutto questo passa per un piano credibile di riforme che è innanzitutto un nodo politico per l'eurozona e io penso all'Italia in particolare in questo senso. Il ciclo congiunturale sta in qualche modo favorendo una ripresa dell'eurozona, un po' in ritardo rispetto agli Stati Uniti, però qualche segnale da questo punto di vista c'è, quindi nel 2014 questi segnali potrebbero consolidarsi, dobbiamo immaginarci che però vengano accompagnati da piani credibili di riforme di rientro del debito per poter essere sostenibili nel lungo periodo.